Marco, in Coppa Italia quando sei stato chiamato in causa hai fatto molto bene, lo hai fatto anche nelle gare che hai giocato all'inizio. Adesso cerchi qualche altra chance? Eh sì, sicuramente. Io appunto sempre a dare il massimo e a esprimermi sempre di più. Ti chiedo che effetto ha fatto segnare in Coppa e trovarti la tua curva lì a due passi? Beh, è un'emozione che non avevo mai provato, un'emozione bellissima, però la curva non era diciamo al completo e quindi non è stato come segnare in campionato. Hai giocato in Coppa da esterno a destra, è un ruolo che ti piace o preferisci quello tuo classico a sinistra? Beh, posso giocare pure in porta, basta che gioco, non fa niente. Che Pescara è questo secondo te? Eh, un Pescara, siamo tutti quanti molto forti, è una squadra che è giovane, che punta tutti quanti a vincere e fare sempre del nostro meglio. L'ultimo giovane di proprietà del Pescara che è andato nel calcio internazionale è Marco Verratti. Qualcuno fa il paragone delle monache Verratti, ti pesa? No, io penso a me. Ecologica, devi aspettare la terra che ci ospita.